L'Abruzzo omaggia i giusti tra le nazioni, Pancrazio dei Lauretis, Podestà dell'Epoca e Mario De Nardis, funzionario di Polizia della Questura. Questo avviene in un momento in cui la pace nel mondo è ancora utopia e lo dimostra ciò che sta accadendo in Ucraina. Per questo la scelta di omaggiare due personaggi di questo calibro assume un significato ancora più alto. La cerimonia è promossa dallo Yad Vasham, l'ente nazionale per la memoria della Shoah, che ha il compito di documentare e tramandare la storia del popolo ebraico durante la Shoah. Voluta dal comune dell'Aquila, la cerimonia si è tenuta all'editorium del parco in collaborazione con l'ambasciata di Israele. Un riconoscimento a due patrioti che rischiarono la vita per salvare gli ebrei dalla ferocia nazifascista. Durante la guerra De Nardis aiutò la famiglia Fleshman, che viveva a Navelli, a sottrarsi dalle persecuzioni naziste e rastrellamenti che li avrebbero condannati alla deportazione e alla morte. Pancrazio dei Lauretis, allora podestà del paese, cospirito umanitario ed estremo coraggio, perché se fosse stato scoperto non si sarebbe salvato neanche lui dalla vendetta del regime nazifascista, contribuì a proteggere i Fleshman, rischiando personalmente quando un giorno accompagnò in ospedale un membro della famiglia ebrea, il quale malato, non poteva fuggire da Navelli durante una perquisizione. Un tema attuale in giorni drammatici come questi, per ribadire che la pace, il rispetto dei diritti, delle differenze, della libertà individuale e della solidarietà, sono la più preziosa conquista dell'umanità, che non si può buttare. Era presente la cerimonia l'ambasciatore di Israele, Dror Reydar. Siamo venuti qua, dall'Aquila, per una cerimonia molto importante, una cerimonia della memoria, cosa che è successa qui solo 80 anni fa. e questa memoria è come una declarazione di speranza per quello che sta succedendo adesso in Ucraina. Adesso abbiamo anche centinaia di migliaia di ebrei anche in Ucraina, che lo Stato di Israele preoccupa e vuole aiutarli. All'editorium c'erano anche i familiari delle famiglie salvate durante la guerra e dei salvatori. Presente la presidente della comunità ebraica di Roma, Rutte Dureghello. Per l'assessore del comune, Fabrizia Quiglio, che è la delega ai rapporti internazionali, questo riconoscimento è molto importante, proprio perché accade in un momento storico drammatico, per rinnovare un messaggio di fiducia e speranza, affinché cessi subito lo spargimento di sangue in atto. Quando stavamo preparando questa cerimonia, che è una cerimonia veramente bella, perché è una cerimonia che celebra il coraggio, celebra l'amicizia, e celebra soprattutto anche persone che, nei momenti drammatici, nei momenti più bui della nostra storia, hanno deciso di dare seguito a quella che è la legge morale, che alberga all'interno di ogni uomo. E chiaramente quello che stiamo vedendo in questi giorni ovviamente ci sconvolge e forse è ancora più importante, in momenti così drammatici, ricordare anche che è possibile altro.